Armi pronte, Johnny. Tempesta in arrivo. Fatemi rapporto, signori. È raggiunta, Watcher. Ci dividiamo. Vi osserverò dall'alto. Al lavoro, bravo. Vado. Ricevuto. La priorità è la chiave metronica. Ce l'ha l'avvento alla sicurezza di Milena. È il nostro obiettivo. Soap, lo troverai sul tuo lato dell'isola. È sfortunato. Non mi scapperà. Ho individuato l'obiettivo prioritario. Il segnale non è granché, ma possiamo seguirne i movimenti. Metto in sicurezza il perimetro. Resterò in contatto. 7-1. Vedo un nemico al porto. Visto. Non c'è tempo per un giro in barca. Non sarebbe male venire qui a pesca. Scendi subito da lì, Johnny. Era per dire. Watcher. Veicoli di fuga lungo il perimetro. Quanti? Quattro imbarcazioni gonfiabili in una baia. Un elicottero vicino alla spiaggia est. Poche guardie. Non possiamo rischiare. Barazzatene. Ok. Nessuna via di fuga. Controllo la spiaggia. La strada ha lasciato scorte sull'isola durante la ricognizione. Puoi recuperarle. Ricevuto. Potrebbero servire. L'isola brulica di Connie. Fuoco a volontà, Johnny. Con estremo piacere. Mi avvicino alle stanzette. Com'è che si chiamano, Watcher? Dovrebbero essere delle cabanas, 7-1. Ho ucciso le guardie sul perimetro posteriore. Neutralizza imbarcazioni e veicoli. Quindi nessuno deve entrare o uscire, Ghost. Contaci. Signori, ho fatto delle ricerche. L'obiettivo è Nestor Gustev. Avvisa i familiari che non tornerà per cena. Sei vicino. Ricevuto. Ci sono due coni con lui. Meglio che tre. Aspetta che sia da solo, Johnny. Lo spiello, lo smatri. Sì, il protivine! Si hanno scoperto. Facciamo большimi battieri. Sì, l'obiettivo a terra. Prendi la chiave elettronica. Ci sto lavorando. Presa. 7-1, il terminale in un bunker. La porta è chiusa. Si aprirà da un'altra parte. Un edificio o una sala di controllo. Sospetto che il terminale sia nel bunker sotto la torre radio. La porta del bunker si apre. Ricevuto. Bel lavoro, 7-1. Adesso entra nel bunker e accedi al terminale con la chiave. A tutti. Sono nel bunker. Ricevuto. Accedi al terminale, Sop. Perimetro in sicurezza. Nessun movimento. Ricevuto. Bene. Il terminale si sta avviando. Ottimo lavoro, Sop. Vedo conti, depositi, coordinate bancarie. È un'informa. È tutto bloccato tramite autenticazione biometrica. Ci segnalano molteplici chiamate dalla casa principale. Milena è là dentro. Ci servono faccia, occhi e impronte di Milena. Ok, Sop. Vediamoci alla villa. Prenderemo Milena viva. Connie proteggerà Milena fino alla morte. Fino alla morte, eh? Diamoci dentro, tenente. Attenzione, bravo. Nuova attività di droni sull'isola. Guarda in alto, Johnny. Beccali appena li vedi. Sei esposto. La Romanova fa delle chiamate dal suo ufficio. Sarò in ascolto. Ti aggiorno. Chi sta accedendo al terminale? Trovate subito Gustav! Gustav... Non è più reperibile. Gente, Milena è spaventata. Ci tiene i suoi soldi? Bene. Le si ritorciera contro. Occhi a quei droni, 7-1. Adesso l'isola è in stato di massima allerta. Cristo santo! Alla casa principale! Entro! Ricevuto. Però là non potrò vederti. Ok. Dov'è la Romanova? Rintanata nel suo ufficio. Secondo piano, dietro una porta chiusa. Come c'entri? Stacca la corrente al sistema di sicurezza e aprirò la porta da remoto. Ok. Senza corrente si spegneranno anche i droni. Anche se prendiamo la Romanova, Connie non si fermerà. Si fermeranno quando saranno morti. Non è vero. Sup, sai già cosa fare. Un lavoretto pulito, Watcher. La mia specialità. Ghost! Qualche aggiornamento sul breakout? Interruttori trovati. Tieni duro, Johnny. Il sistema di sicurezza controlla anche i droni, no? L'idea è questa. Non è vero. Appena in tempo. Adesso apri la porta di Milena, Laswell. Subito. Attendere. È aperta. Ci siamo. Ci vediamo. Forze speciali, mani in alto! Giù. Fottiti. Seduta, Milena. Dov'è il tuo capo? Non ho un capo. Nessuno mi dice cosa fare. Come va, ragazzi? Non parla. Tra poco lo farà. Dammi la mano. Se no, che fai? Me la tagli? Non è il mio stile. Più il suo. Perché la maschera? Nascondo la faccia. Ecco. Niente nei miei conti vi porterà a Vladimir. Lo vedremo. Ci sono conti del gruppo Connie nascosti in piena vista e trasferimenti alla prigione di Zordaya. Il Gulag. Soldi per la fuga di Mankarov. Il denaro apre le porte. Allora perché non preleviamo qualche rublo dai conti di Mankarov? Fatto. Vediamo se reagisce. 85 milioni trasferiti su un conto segreto della CIA. Vladimir e il suo lavoro. Sono già stati pagati. Non sei molto bravo, eh? Neanche tu. I tuoi uomini sono morti e i tuoi conti vulnerabili. State rubando a Mankarov, non a me. Ah, super. Hai sentito? Certo. Mettiamola sul personale. Dobbiamo andarcene da qui o inizia a parlare o la portiamo con noi. Banca nazionale svizzera. E il tuo conto personale? È questo, eh? I soldi non si toccano, eh? Non per molto. Ma che cazzo credi di essere? Abbiamo trovato un punto debole. Svuotiamolo. No, non ti azzardare. Qualcosa non va, Miss Romanova? Io non conosco i piani di Mankarov. Lo finanzio e basta. Nient'altro. Dagli la tua impronta. Oppure dici dove trovare Mankarov. Fanculo. Tu e quell'uccellino che ti parla. Su quel conto ci sono i miei soldi. Ho lottato per loro. Li ho guadagnati. Insisti, è nostra. Io ho finito. Tocca a lui. Lo verrà a sapere. Senza i miei soldi io sono morta. Quei soldi mi servono. E a noi serve Mankarov. Dove si trova? Vostok. C'è un bonifico alla Vostok Capital di San Pietroburgo. Vladimir ha questa proprietà edifici abbandonati. Non so perché. Ed è tutto quello che so. Ci sono. Non ci serve altro. È stato un vero piacere. Brava ragazza. Quando gli chiederete pietà, non vi darà ascolto! Ci vediamo all'inferno! Anche gli Shadow cedono. Certo, tutti quanti cedono. Se la Shadow non ha raggiunto Milena, chi è stato? Price e i suoi amichetti reali. Insieme a me ha lasciato. Ti assicuro che il loro rapporto è puramente commerciale. Dobbiamo agire in base alle informazioni ottenute dal prigioniero. Lasci fare a me. No, tu mi servi qui. Divide e timpera. Se hanno trovato Milena, troveranno noi. E lei pensa che sappiano altro? Sì, ma assicurati del contrario. Se verranno, saremo pronti. Voglio che tutti sappiano che non ci fermeremo davanti a nessuno. Uomo, donna o bambino. È chiaro? Sì, chiarissimo. Se il nostro amico della Shadow ci ha detto la verità, tu sarai il primo a sapere. Ti ha mentito! Allora, ammazzano. Romanova ha parlato. Come? Interrogatorio finanziario avanzato. Le informazioni erano buone. Ora sono nostre. Ti abbiamo di perseguibile. Un'azienda fittizia della Romanova ha acquistato un complesso abitativo abbandonato a San Pietroburgo per il gruppo Connie. Quando? Di recente. Un avamposto di Connie? Credo anch'io, capitano. Ho trovato l'edificio. Il satellite mostra un pallone di recupero sul tetto. Può essere lì solo per rimuovere qualcosa che vogliono nascondere. O qualcuno. Il complesso è un labirinto di piani. Gas passerà dal basso. Io coprirò dal tetto. Per l'estrazione? Niente elicotteri. Prendete ciò che vi sembra interessante e Nick vi tirerà fuori. Il pallone. Skyhawk. Se Makarov è lì, prendetelo. Sei a Watcher, il drone è in volo. Dovreste avere la visuale. Ok, confermo. Diverse troppe di Connie sul tetto dell'edificio Nord. Nessun segno di Makarov. Chi è il nostro amico Nervosetto? Sembra lui al comando. Vediamo un po' se riesco a identificarlo. Ricevuto. Gas, sei in posizione? Bene. Vediamo chi e cosa troviamo qui. Non tornate a mani vuote. Watcher, chiudo. Affermativo. Sono pronto. Avanzo, Gas. Fammi sapere quando sei all'ascensore. Ok. Mi muovo. Capitano, sono all'ascensore. C'è una scala. Ricevuto. Usala. Bravo. Ho identificato il bersaglio. Andrej Nolan. Era nell'inner circle di Makarov. Ha un ruolo importante nelle gerarchie di Connie. Uno con cui mi piacerebbe fare una chiacchierata. Prima io. Lasciamene un pezzo. Ora il tuo bersaglio è Nolan. Scatturalo e portalo via. Ok, Gas. Ci prendiamo Nolan. Inizia a salire verso il tetto. Ricevuto. Come lo estraiamo? Vivo. Io organizzo la fuga. Ci vediamo lassù. Attento, sei due. Diversi nemici in avvicinamento. Nemici, stanno scendendo dalle scale. Centrato. Salgo al sesto piano. Sei a metà strada, Gas. Donny è qui, forze. Spare e muoviti, Gary. Dai cosa fai. Sanno dove ti trovi, sergente. Preparati al contatto. Va! Sanno dove. Il proiettivo! Io vedo il testo! Iniziamo! Il proiettivo! Il proiettivo! esco dall'edificio avancio al settimo piano continuo ad avanzare nolan avviso di suoi sanno della tua presenza ci sono trappole ovunque se ti avvicini puoi disarvarli e mancano pochi andiamo a prenderlo alersi gas, distanate che non avversi c'è un protetico scelta 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 Sì Salgo all'ottavo piano. Ne mancano pochi, andiamo a prenderlo. Avanzo al nonno. Ci sei quasi, Gus? No, 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 no. No, 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 no. C'è una scorciatoia. Uno sopra di te, Gus. Grazie del supporto. Ok. Fai attenzione all'equipo. Gas, sei quasi al tetto. Aspettati molta resistenza. In campana, vedo del Claymore lì vicino. Grazie. 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 Sì, sì, sì. Sì! Vedo Andrei Nolan, il braccio destro di Makarov. È a terra. Gas, vai e prendilo. Se è ancora vivo, è ancora pericoloso. Prendilo vivo. Deve darci informazioni. Recupera il bersaglio. Chiamo l'estrazione. Angolo sud-est del tetto. Non farvi aspettare, pezzo di stronzo! Eccoci qui! Uccidimi. Non ti aiuterò. Dicono tutti così. Vedo la sua bocca che si muove. Fallo tacere. GAS, elicotteri nemici diretti verso il tetto. Bravo, Watcher. Versaglio prelevato. Siamo pronti all'estrazione. Ok, Yankee in arrivo tra due minuti. Pronti per lo Skyhook. Ricevo troppo. Speriamo che ci bastino i colpi per tenerli a barra. Vogliono davvero riprendersi il loro capo. Se lo scordano. Non ti aiuterò. No. Non ti aiuterò. Vi faccio. No. Non ti aiuterò. Non ti aiuterò. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 S. Sì. 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 Sì.